Ciao a tutti e bentornati al corso di programmazione iOS. Da questa lezione iniziamo a vedere le varie funzioni che possiamo eseguire quando l'utente esegue delle istruzioni tramite le dita. Quindi abbiamo in totale sette possibili istruzioni tra cui in questa lezione vedremo il tap cioè il tocco del dito sul nostro schermo e quindi fare eseguire delle operazioni alla nostra applicazione. Poi vedremo lo swipe, vedremo il tocco con due dita, la rotazione, il tocco prolungato, il pan che sarebbe il trascinamento del dito sullo schermo. Quindi come detto andremo a vedere le basi di questi componenti. In questa lezione vedremo appunto il tap, quindi creiamo un nuovo progetto, single view, lo chiameremo tap gesture perché tutte queste funzioni vengono definite delle gesture. Salviamo il nostro progetto e spostiamoci nel main storyboard. in questa prima lezione vedremo come eseguire il tap tramite l'interfaccia grafica. Come abbiamo visto per gli altri elementi nella prossima lezione vi farò vedere come creare questa istruzione tramite codice. Per creare la ci spostiamo nella libreria e selezioniamo il tap gesture. Se clicchiamo sopra vedete il iconizzetto tap gesture include double tap o multi trap. Quindi lo trasciniamo nella nostra view o nel caso vogliamo assegnarla un altro elemento in presente della view lo trasciniamo all'interno. Quindi trascinando all'interno rendiamo tutta la nostra view principale possibile la possibile area che può intercettare questo tap. Vedete l'abbiamo inserita e viene inserita qui a scod tramite tap questa linea indicando il tipo di tap o meglio il tipo di gesto che abbiamo selezionato. Cliccandoci sopra vedete possiamo decidere di quanti tocchi deve essere quanti occhi devono essere fatti sullo schermo per attivare questa questa gesture e di quanti dita di quanti toucher abbiamo bisogno. Per esempio adesso noi lasciamo un dito doppio tap. Dopodiché per fare un esempio ci spostiamo sempre nella libreria e selezioniamo due view quindi selezioniamo le nostre due view eccole qui possiamo metterla una qui la facciamo di colore blu o viola via selezioniamo un'altra view e potremmo farla di colore arancione. Dopodiché ci spostiamo nel nostro assistant editor e come prepariamo gli elementi inseriamo gli elementi quindi faremo i riferimenti alle due view e poi faremo i riferimenti alla gestore tap. Quindi trasciniamo la nostra prima view e la chiameremo view 01 trascineremo la nostra view, la chiameremo view 02. Dopodiché faremo il collegamento anche alla nostra gesture, trascinando qui selezionando il nostro elemento lo spostiamo qui e lo chiameremo tap view, perché vedete vedete tipo UI tap gesture con il zero. Quindi abbiamo creato un outlet anche per la gesture e i due elementi, dopodiché come per i bottoni la nostra gesture può avere anche un action, quindi selezioniamo action e la chiameremo la chiameremo tap view action. Perfetto, dopo di che ci spostiamo adesso nel view controller, intanto selezioniamo il nostro emulatore e lo avviamo, intanto lui lavora. quindi abbiamo detto che ha due tocchi, perché abbiamo impostato due tocchi, deve eseguire questo metodo, quindi lo chiameremo creamo creo metodo per la gestione azione del tap nella view. A questo punto possiamo intanto fare una prova, possiamo fare un print eseguito tap nella view. Quindi, se rilanciamo adesso la nostra applicazione, vedremo che al tocco, vedete, il tocco singolo anche se non si vede, vedete, a un solo tocco non esegue nessuna operazione, perché io ho impostato due tocchi, se faccio un doppio tocco, vedete, esegue questo metodo. Possiamo anche impostare qui, selezionando appunto il nostro tap view, un tocco solo, quindi basta un unico tocco sullo schermo, vedete, ed esegue il nostro metodo. Quindi abbiamo definito in questo modo che tutta l'area dello schermo è possibile al tocco, quindi riportiamola intanto a due tocchi. Perfetto, quindi adesso possiamo, nel nostro esempio, eseguito tap nella view, possiamo fare, guardate, mettiamo una variabile chiamata conto, che è uguale a 0, eseguito tap nella view, e metteremo quante volte abbiamo fatto questo tap, quindi faremo così, e scriveremo la nostra variabile conto. Dopodiché, per fare un esempio, potremo nascondere alternativamente le due view appena create, quindi, facciamo view, quindi faccio conto, se conto, vi ricordate, facendo così, sto dicendo di fare un controllo, che se conto diviso 2 ha come risultato 0, è un numero pari, quindi recupero i numeri pari, quindi se il numero è pari, vi dico, se il numero è pari, di questo confronto, allora, fai la view 0, 1, proprietà isen, è uguale a false, quindi visibile, invece, la view 0, 2 isen, è uguale a true, quindi nascondiamo la 2, ma potrei fare un else, e di la view 0, 1 isen, è uguale a true, quindi nascondiamo la prima, e rendiamo visibile la seconda. Adesso noi lanciamo, rilanciamo la nostra applicazione, ecco qua, vedete, eseguo, tap view 0, ovviamente, per incrementare, mi sono scordato, vedete, di inserire l'incremento della variabile conto, quindi faremo più 1, uguale più 1, quindi così incrementiamo la variabile conto, rilanciamo la nostra applicazione, e vedete, al primo tap, perché essendo un numero dispari, cancella, nasconde la prima, la prima view, e fa vedere la seconda, vedete, quando è pari, effettua il tap, effettua lo scambio, vedete, di visibilità delle varie view. Bene, per questa prima lezione è tutto, vi ricordo che per domande e chiedimenti potete visitare il sito swift.ios.it o commentare questo video. Vi ricordo inoltre che potete scaricare, fare il progetto all'interno della lezione del sito, se la lezione vi è piaciuta e vi è stata utile potete lasciare un mi piace qui sotto e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle prossime lezioni. Grazie e buona programmazione a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti